ciao ragazzi bentornati dal vostro denar man siamo tornati su little hope direi di continuare da dove abbiamo lasciato l'ultima volta mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale e commentate come sempre le vostre decisioni in relazione chiaramente alle mie direi di poter di scusatemi continuare la nostra storia vediamo come va a finire insomma abbiamo mi somiglia cosa ha fatto per essere arrestata non è incoraggiante ma non ti preoccupare ti proteggerò io abbiamo sono sconvolta lo capisco non esistono ma è stato tutto un incubo dopo quell'incidente ti ringrazio per l'aiuto questa notte sarebbe stata decisamente peggio senza di te sostegno reciproco flortiamo ragazzi abbiamo avuto diversi eventi abbiamo scoperto ancora di più abbiamo trovato anche la sosia di taylor ci stiamo addentrando sempre più nella storia ho il sospetto che siamo i primi turisti da scusate ho bloccato sempre io in questo caso ho bloccato io la conversazione ma non capisco perché se esco dall'immagine lui mi blocca la conversazione clamorosa sta cosa è da dove diavolo arriva non ho idea non vedo grandi cose che cos'è corvo non è possibile ricordo questi segni è la mia vecchia altalena guarda qui vedi ehi va tutto bene calma no che non va bene non capisci vedi queste stelle queste qui le ho disegnate io insieme a mio padre e l'ho fatto quando avevo dieci anni sicura certo che sono sicura questa è la mia altalena come può trovarsi qui assurdo sarà una simile solo una coincidenza ascoltami allora non vuoi capire quello che dico la città sa chi sono hey hey look at me look at me we're getting through this ok together oh ragazzi ha cambiato non è opera mia dovete aiutarmi ve ne prego per favore prima che sia troppo tardi silenzio donna solo il signore può perdonare i peccati è la tua unica speranza di salvezza ascoltatemi non ho commesso alcun peccato la bambola per cui mi condannate è solo un giocattolo null'altro non mi inganno il male che hai condotto tra noi va montato per affrancare noi e te dal peccato devi bruciare mi imploro basta no non fatelo no non per favore no aiuto ciao ciao vi prego signore accogli l'anima della nostra sorella Tabitha che è stata corrotta dal demonio sia fatta la tua volontà ragazzi poi alla fine faremo valutazioni sui doppiaggi e il resto eh abbiamo aumentato la nostra carabietà eppure Taylor è morta cioè la Taylor seconda versione la donna condannata ero io vuol dire che sono la prossima non ti accadrà nulla ti proteggo io grazie per fortuna sei qui proseguiamo verso la chiesa lì troveremo gli altri sì credo sia meglio ok così c'è da dire che non lo so giusto così mi sento come seguito non è una sensazione ehi vedi di andartene via stai alla larga da noi ok oh merda che diavolo è quello nasconditi coraggio ci giochiamo tutto qua eh mamma mia che ansia ragazzi se sbagliamo eravamo secchi via scappiamo dai 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 slow motion è tanta roba Questo pezzo è fatto veramente bene Veramente figo questo pezzo Non fermarti vai Frulla frulla Mamma mia ragazzi ce la siamo scampata Ma che cazzo Ho sentito È Taylor Taylor Sei tu Taylor Verso la chiesa Presto Eh ragazzi dobbiamo vedere il bel mezzo di azione pure Pure Vince Andiamo dentro Presto Veloce Ehi Scappo Entra Sbrigati Ma che cosa aspetti Ehi Sei impazzita Puoi forse farti ammazzare Venite dritto Grande Grande pistolone Dov'è Angela Non ce l'ha fatta Tutto inutile Stai scherzando? No e dobbiamo tenere fuori quella cosa O faremo la stessa fine Merda Cercate gli altri ingressi e bloccateli tutti Merda Dobbiamo barricare la porta Dai Ehi Stacchi Kiko Perché quel vecchio pazzo è ancora là fuori Vecchio è fuori di testa Quel vecchio non c'è con la testa Per fortuna è rimasto fuori So che sei dentro Se tu fossi rimasto calmo Invece di metterti a sparare Forse se ne sarebbe andato Non ha capito che la situazione è grave Vieni fuori e guardami in faccia Non provare a mettere il naso fuori Dico a te stronzo Perché diavolo mi hai sparato? Non ti nascondere Liberiamoci di lui Perché se il mostro lo sente siamo nei guai Volevo essere d'aiuto Ehi calma io Volevo solo aiutarti Non hai visto quel mostro? Ma di che cosa parli? Qui non c'è nessun mostro Quella cosa ha ucciso una nostra amica Ok Dimmi cosa è successo Ha preso la mia amica E' accaduto molto in fretta Prima la mia amica era con noi Poi di colpo è sparita Per sempre Capisco cosa intendi Resta qui Non muoviti Che hai intenzione di fare? Cerco aiuto Mamma mia ragazzi Che ansia Che ansia Posso sapere perché mi hai nascosto Che avevi una pistola? Aumentano i quick event Colpa mia Sbaglio Ci siamo salvati Colpa mia Volevo sparare al mostro Ma Per poco non ho ammazzato il vecchio Colpa mia Scusiamo ci va Quella pistola è un pericolo Per te e per tutti gli altri Professore Andrew Sono io Il prossimo Eh si Direi Dicevo Aumentano i quick event Quindi Prete Reverendo Quel che era Ha mosso accuse al mio sosia Sembrava serio Un altro processo Questa volta no Ma la situazione era simile E la bambina? Mary? Sì Anche lei era lì Qui siamo al sicuro C'erano degli altri ingressi Scusa prof Non ho guardato Bravo Complimenti Quel coso è ancora là fuori Guardate Laggiù È meglio seguirla Chiunque lei sia È coinvolta in quello Che ci sta succedendo E se hai ragione Che facciamo? Fermarla potrebbe essere L'unico modo Per salvare la vita Ai nostri sosia Ok Sta di guardia In caso tornasse Quell'essere Mi sembra una buona idea Comunque Ehi piccola Sei qui? Ecco Ecco Mi addolora dire queste parole Ma il tuo castigo sarà la nostra salvezza E terrà al sicuro la città Potete graziarlo Ve ne prego So che per te è difficile Ma un giorno comprenderai E me ne sarai grata Allontanati da qui Mary Le suppliche non servono Non devi avere memoria Della mia fine Che sarà di me Quando te ne andrai? Il giudice Wyman Ha nominato Abram Sarà il tuo tutore Una decisione Che non vede tutti concordi Il giorno del giudizio Giunge per tutti Oggi tocca a te Guarda piccola Osserva chi volevi salvare Lui non è più una creatura terrena Soltanto i demoni e dannati Resistono a tal modo Chiaramente No Stessa morte del prologo Ovviamente Ma ragazzi Qui si infittisce la cosa Non riesce a capire Era proprio qui Lo tenevo stretto Ero con lui Ma non ce l'ho fatta Mi spiace sia toccato anche a te Mi spiace sia toccato anche a te So bene quanto fa male Maledetti processi Questa gente era pazza Lo hanno ucciso senza motivo Mi spiace Non ha alcun senso Ecco che succede Angela è morta dopo l'esecuzione Della sua sosia Taylor è scampata soltanto per miracolo Quando il tuo doppio muore Poi tocca a te Bravissimo Davvero incoraggiante Molte grazie Non è meglio sapere quello che ti aspetta Ma tutto cosa ti aspetta? È quello che ci segue Non possiamo restare intrappolati qui Cosa facciamo adesso con quel mostro là fuori? Piano È qui fuori Sentite Sì è qui fuori Per adesso E se entrasse dentro a cercarci? Forse siamo al sicuro se rimaniamo in chiesa E perché? Perché È un luogo sacro Magari qui non ci può entrare Andiamo Non si tratta mica di un vampiro Almeno è un edificio con delle mura Ha ragione Qui è più sicuro Non ce ne andremo Forse ha ragione Beh Forse restare qui non è una cattiva idea Secondo te è la scelta migliore? Dobbiamo restare qui Non c'è scelta Dovremmo fuggire finché si può Quel cosa ci ha intrappolati Tu sei l'unico a pensarlo La maggioranza ha deciso che è meglio restare qui Non possiamo dividerci dopo l'episodio di Angela D'accordo Come volete Ma a me non sembra giusto Una bella casa accogliente Ragazzi Casa Chiesa Una bella chiesa accogliente Poi sotto un certo punto di vista Come i cimiteri Le chiese di notte Te ne mettono un'ansia tremenda Su a voi ma Sembrano più di uno Fantastico Sì Ah i pastori morti Questa cosa dei dialoghi La dovevano migliorare comunque Non è possibile che tu clicchi E ti dai al dialogo Cioè Ma che cazzo Calviamola Ci usciamo dal retro Presto Correte Nascondiamoci Presto Si riguarda con l'azione Affronta o scappa Affronta o scappa Affronta Muoviti Daniel Damose 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 Abbiamo fatto Gli abbiamo fatto le chiappe Abbiamo fatto proprio il mazzo Dove sei Taylor coraggio Di qualcosa Dobbiamo aiutarla ora Aspetta un attimo Dobbiamo calmarci Cosa Taylor è nei guai Sei tu Non vedo niente E dove vado Sinistra o destra Andiamo a destra E sei tu Io sono qui Taylor Ci stanno mettendo in condizione Che stanno mettendo in condizione Che stanno mettendo in condizione Non ci speravo più Qui siamo ancora in pericolo Devo respirare Dobbiamo andare Non fermatevi No aspetta Riposiamoci Non esiste Le creature cercano noi Non te Andiamo via Cosa ho detto? Restiamo uniti Credetemi Restiamo uniti Mi andrà tutto bene Come con Angela Vero? Ok Che facciamo adesso? Non lo so Riposiamoci un attimo Riposiamo Bene Non stiamo messi Secondo me Angela Uscirà dalle tenebre Prima o poi Come ci riesci? Magari Dubito che prenderei sonno Dopo quello che è successo Mi piacerebbe Sono a pezzi Qualche idea su come andarcene? Dobbiamo fermare la bambina Ascolta Ormai è evidente che nessuno ci aiuterà Siamo soli Sembra proprio di sì La soluzione Forse è l'unica È fermare la bambina Mary Trovare Mary Fermarla Può funzionare Ok Ma L'altra ragazzina Quella che continua a fuggire Mary e lei sono collegate Ne sono convinto Forse l'altra vuole Condurci da qualche parte Dove? Non lo so Magari il luogo Della resa dei conti La situazione È fuori controllo Non ci restano Molte alternative Tutti gli eventi Ruotano attorno a Mary I processi Le esecuzioni Ok Ma allora Come la fermiamo? Non sappiamo neanche Se esista È tardi per fare qualcosa È così È finita Dobbiamo provarci Dobbiamo provarci Lo dobbiamo agli altri E a noi stessi È Mary La chiave di tutto questo Ne sono certo Non è così semplice È una bambina Ti ricordo Non possiamo Ascoltami Se la rivedremo Faremo tutto quello che serve Oh professore Cosa è stato? Cosa è stato? Quel mostro è tornato Per finirmi Non spregare colpi Ok Ok Aspetta La visuale è libera Ragazzi era la premonizione questa La ricordo La prima Che cazzo Oddio ma è stata Angela L'ho preso? È morto? Oddio era Angela Oh merda Oh merda Ci ho pensato dopo Ragazzi Oh cazzo No 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 Porca Mi spiace così tanto Non può essere vero L'abbiamo vista sparire davanti al museo È assolutamente impossibile che sia qui Non ci posso credere L'ho ammazzata io Non ci posso credere Ci ho pensato dopo Calmati John Ti prego basta È stato un incidente È tutto assurdo Pensa che volessi attaccarci Questo arnese ha fatto troppi danni Avrei dovuto togliere il telo prima Via Presto Non ci posso credere No sta cosa ma Non ci ho proprio pensato Era troppo tardi quando ho capito la premonizione Proplontanti Non team Terje Ricci Ve� has puffed Mi scontrò Ci ricordi No Un otto 瞧 Ed A Non Un attimo! Andrew, aspetta! Professore! Ci sei? Daniel! Taylor! Ragazzi! Ragazzi, cerchiamo di salvare Andrew! Vediamo che siete! Sì! Soccorri lei! Perché chiaramente... Lui è un uomo! Dai, andiamo a salvare pure lei, pure lui! Ragazzi, non possiamo più sbagliare, eh! Ci siamo già fatti... Ci siamo fatti, abbiamo già ammazzato Angela! Non mi spiego come abbiamo fatto a salvarci! Aspetta a festeggiare, siamo ancora in questa città di merda! E quei mutanti sono ancora lì! Non fermiamoci! E' incredibile! Veramente incredibile! E' meglio conquistare te stesso! Più che vincere mille battaglie! Se conquisti te stesso, la vittoria è tua! Nessuno potrà togliertela! Né angeli, né demoni! Paradiso o inferno! Forse comincia a essere evidente! È vero! Cioè che nulla... E che nessuno... E' obbligatoriamente... Quello che sembra essere... Tre esecuzioni! Tre... Creature tormentate! E finora... Solo un'anima perduta! Angela... Ma forse il nostro peggior nemico alberga dentro di noi! Mi ero raccomandato di fare attenzione a... L'arma! Ipotesi sul futuro e su cosa si nasconda... Nella nebbia! Qualcosa di sinistro... Sta per accadere! Ma mia... Raccomandazioni eh! Ragazzi... Direi di... Anche per oggi di fermarci qui... Abbiamo già ucciso Angela... Siamo rimasti sicuramente in quattro... E... Vediamo cosa succede nel prossimo episodio... Per il momento... Come dicevo direi di fermarci qui... Mi raccomando ragazzi... Iscrivetevi... Al mio canale... Iscrivetevi ai miei canali social... Mettete un bel pollicione... Condividete... Ci vediamo al prossimo appuntamento... Con il vostro Danarman... Ciao!